buonasera a tutti benvenuti a questo incontro di presentazione della biografia di padre romano scalfi l'avventura di russa cristiana abbiamo con noi l'autore pigi coloniesi che già alcuni anni fa aveva preparato una prima edizione di questo volume poi aggiornata con un capitolo che racconta anche gli ultimi anni di vita di padre scalfi insieme con l'autore e con noi per presentare questo libro don antonio rizzolo direttore della rivista credere del gruppo san paolo che è anche l'editore che ha voluto riscommettere su questa biografia di padre romano è una grande possibilità questa perché padre romano il cui cammino terreno si è concluso il 25 dicembre dell'anno scorso lo stiamo sperimentando come una presenza quanto mai viva e sotto questo aspetto poter conoscere più distesamente la sua storia anche da parte di quanti non possono più conoscerlo di persona ma si stanno accostando a russia cristiano stanno iniziando a condividere quella passione che l'ha animato per tutta la vita è possibile proprio grazie a strumenti come questo strumenti che sono anche come il condensato di una conoscenza di una frequentazione di una amicizia e che proprio sotto questa chiave vogliamo questa sera considerare insieme ma non voglio rubare troppo tempo con la presentazione e allora io darei innanzitutto la parola a don antonio rizzolo perché ci dica nella qualità di editore di questa biografia come pensa questa biografia nel quadro della presentazione di figure significative della spiritualità cristiana della fede cristiana del ventesimo secolo come mai la decisione di scommettere ancora su questo volume grazie buonasera a tutti una scommessa credo significativa e importante quella che abbiamo fatto e lo scopo è anche quello di di avere un ulteriore diffusione di questa biografia che è stata aggiornata per l'occasione l'occasione anche oltre al fatto che appunto come è stato ricordato padre romano e ci ha lasciati da praticamente fra due giorni sono otto mesi però ci ha lasciato una grandissima e importantissima eredità e poi dal fatto che sono quest'anno cadono i 60 anni di russia cristiana e quindi c'è anche un collegamento diciamo così come sempre tutti gli editori anche quelli giornali cercano un evento con cui collegarsi però al di là di questo che diciamo l'aspetto estrinseco è quello che ci auguriamo comunque è un'ampia diffusione e una conoscenza di questa figura ma non solo anche della realtà di russia cristiana e vorrei fare così un richiamo due elementi fondamentali che sono che fanno parte delle dell'impegno del gruppo editoriale san paolo che ovviamente comprende oltre all'editore edizione san paolo anche le riviste e altre attività diciamo che in generale ci dicono che noi cerchiamo di portare avanti una linea editoriale cross mediale come si usa dire oggi sintonizzandoci dunque con i tempi attuali con lo scopo come ci insegnava ci ha spionato a fare il fondatore il beato giacomo alberione di per usare le sue parole annunciare il vangelo il vangelo agli uomini di oggi con i mezzi di oggi e quindi utilizzando tutta la potenzialità che i media ci offrono nelle loro varie espressioni in realtà un piccolo esempio l'abbiamo nel fatto che c'è il libro cartaceo abbiamo poi la rivista creder che ospita in questo numero ma il numero che ha data domenica di domenica scorsa che era in distribuzione credo che ce ne sia anche disponibile da qualche parte in sala c'è un'intervista a don francesco che racconta un po cos'è russa cristiana ma anche poi rievoca e racconta la figura di padre scalfi e in particolare significato della sua del suo impegno della sua attività e anche diciamo della sua spiritualità perché questo come dire questi sono i due grandi filoni a cui accennavo proposto dell'impegno del gruppo editoriale san paolo con l'elemento fondamentale quello di evangelizzare portare il vangelo riprendendo questo è il primo filone il grande valore della tradizione cristiana che costudisce secoli di storia e cerca al nostro tempo di proiettarsi nel futuro secondo luogo quindi la grande tradizione cristiana e la russia da questo punto di vista rappresenta un un bagaglio un focolare un qualcosa di grandissimo da questo punto di vista e poi c'è il desiderio di esplorare anche nuovi ambiti e nuove esperienze soprattutto a livello di spiritualità proprio andando proprio a cercare a cercare diremo i contatti tra il vangelo e la cultura contemporanea ecco da questo punto di vista credo che la biografia di padre scalfi che racconta la sua vita ma anche in particolare l'avventura di russia cristiana perché sono due realtà che sono strettamente intracciate tra loro raccontare dell'uno e come parlare dell'altro viceversa ecco si sita proprio in questa direzione c'è la riscoperta da questo punto di vista la grande tradizione cristiana rappresentata dalla grande fede del popolo russo e anche dei suoi grandi autori e dall'altra parte diciamo una nuova esperienza che è proprio quella stessa rappresentata da russia cristiana e da padre scalfi come suo fondatore e diciamo è quello che l'ha portata avanti per tantissimo tempo ecco rappresenta anche una realtà del mondo contemporaneo della spiritualità contemporanea in tutto questo c'è una cosa che vorrei mettere in evidenza ed è uno dei degli aspetti che in particolare quando poco più di quattro anni fa ho iniziato e abbiamo iniziato di copre che ero sotto il primo direttore lo sono dottora di di credere quando abbiamo iniziato credere tra i vari elementi che ci hanno spinto a proporre questa rivista c'era quello di raccontare la realtà della vita cristiana del bene che esiste della fede concreta vissuta dalle persone persone di cui magari non si parla che non sono conosciute oppure persone molto note ma che sono note per altre per altre cose non per la loro fede e in qualche modo nel libro e quindi della spiritualità che emerge anche dalla russia cristiana e mezza questa attenzione alla persona che diciamo l'ideologia comunista al potere in un'unione sovietica ha cercato di qualche modo di calpestare di di chiudere dico di comprimere ma la persona non può essere compresa non si può imporre semplicemente un'ideologia pensando di cambiare l'uomo come voleva fare l'enin l'uomo noi diciamo noi crediamo in quanto cristiani creato immagini e somiglianze di dio riemerge sempre e da questo punto di vista la centralità della persona è fondamentale nell'esperienza spirituale credo di russia cristiana e di padre scalfi ma anche fondamentale in quello che abbiamo voluto fare con con credere raccontando storie esperienze persone che vivono la loro fede in maniera semplice maniera concreta in maniera reale e nello stesso tempo non è soltanto l'attenzione alla persona è l'attenzione alla dimensione della fede ma che non è solo la fede è l'attenzione a e la centralità di gesù cristo che anche questo è un elemento che emerge moltissimo nel libro e nel racconto che che pg colognese ne fa e quindi evidentemente è proprio il cuore anche della della spiritualità di russia cristiana di padre scalfi e la centralità di cristo l'abbiamo cercata di fare emergere in credere in un elemento che non è forse così evidente ma che come la trama di tutta la rivista che fa parte della spiritualità paolina della del che ci ha tramandato don alberione e che dice che al centro ci deve essere gesù cristo via verità e vita infatti la rivista divisa in tre parti via che abbiamo associato ai testimoni della fede il testimone del padre è cristo stesso ma noi sulla sua scia siamo testimoni di cristo verità la verità è cristo stesso ma le verità della fede e quindi l'approfondimento attraverso dei dossier delle analisi e così via sono quelle che noi che c'è che ci aiutano a vivere poi la nostra fede a comunicarla e a testimoniarla infine vita che in realtà è la vita di grazia sono i sacramenti e la vita divina che viene data a noi per mezzo di cristo e con il dono dello spirito santo che si come dire emersi in particolare nella riturgia ed è nella terza parte della rivista dove parliamo del del facciamo il commento al vangelo del giorno e ad altri elementi diciamo che costruiscono la dimensione vitale ma nel senso anche sacramentale della vita cristiana quindi questi due elementi prometto di dire la libertà e la persona umana e la sua libertà dall'altra parte il libertà che è inscindibile dalla dal suo essere essere persona l'estero umana persona creata immagina la somiglianza di dio e dall'altra parte la centralità di gesù cristo credo che in questo senso ho cercato di identificare in questi due elementi due degli aspetti fondamentali a mio parere del della spiritualità spiritualità di russa cristiana che si trova in perfetta sintonia anche con quello che cerchiamo di fare nel lavoro settimanale con credere e da questo punto di vista diciamo c'è questa grande sintonia credo e mi auguro che appunto il libro su padre scalfi e la sua avventura con russia cristiana possa avere la massima diffusione proprio perché anche tutto questo possa in qualche modo toccare il cuore di ciascuno e possiamo come dire se non l'abbiamo già incontrato incontrare a gesù cristo e in ogni caso rafforzarci in questo come dire in questo incontro con lui grazie mille don antonio a pigi vorrei chiedere una cosa riambalacciandomi a come ha presentato i tratti fondamentali della esperienza della spiritualità di russa cristiana don rizzolo una grande attenzione al valore della tradizione cristiana ma nello stesso tempo una vita che veicola questa tradizione chi sta vedendo la nostra mostra sulla rivoluzione russa vede anche come può capitare che il portare una grande tradizione rischi come di inaridirsi e sappiamo molto bene che né russia cristiana né padre romano sono stati gli unici luoghi le uniche realtà che hanno coltivato e custodito i testi le preghiere la cultura della russia cristiana ecco nell'esperienza che hai descritto in questo libro e che è anche conosciuto molto da vicino come la tradizione è ridiventata vita ma prima di rispondere analiticamente questa domanda permettetemi di comunicare una riflessione che mi è venuta quando sono stato invitato e ringrazio alla questa presentazione anzi la riflessione mi è venuta quando mi è stato chiesto dalla casa editrice di completare il libro del 2007 con un cuore che ho chiamato epilogo che è il racconto super sintetico degli ultimi dieci anni nella vita di padre scalfi cosa mi è venuto in mente che quando dicevo ad alcuni amici al tempo della prima edizione il primo libro che si intitolava russia cristiana una biografia di padre scalfi dicevo sto scrivendo la biografia di padre scalfi molti mi dicevano ma come è morto no 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 guardate è vivo vivissimo sto facendo la biografia di una persona viva mi sembra legittimo e la ragione che mi spingeva era proprio perché avendo lavorato russia cristiana avevo avuto a che fare con padre scalfi avendo visto la ricchezza enorme di contenuti storici ecclesiali teologici spirituali eccetera che la sua vita e la vita dell'opera che aveva messo in piedi aveva prodotto io avevo il terrore da amante della storia ho studiato storia mi piace la storia mi è sempre piaciuta la storia il mio terrore era quello che tutto questo si disperdesse e che quindi nessuno conservasse questa meravigliosa storia di un uomo e dell'opera che ha messo in piedi ed è la ragione per cui ho fatto la biografia e devo dire che rileggendola a distanza di dieci anni proprio per prepararmi adeguatamente a questa serata devo dire che il lavoro era stato fatto bene sono poche le cose che non reggono più in questo lo dico magari non vinco il primo umiltà ma pazienza l'umiltà è la verità dicono quindi se uno però non è questa la riflessione che la riflessione molto più grave che mi è venuta pensando a questa sera adesso pade scalfi è morto adesso sì adesso è morto e allora che senso ha ritornarci su e proprio in questi giorni mi è tornata alla mente una frase del mio amato Pegui che all'inizio di una sua opera fa parlare alla storia Clio la muse della storia la storia in quanto quanto storia e dice ma in fondo io sono solo una vecchia donna senza eternità allora ho detto ma ogni cosa che muore ogni cosa che invecchia e muore deve dire di sé questa cosa qui allora che senso ha fare una storia una storia una storia che non abbia dentro il guizzo dell'eternità non interessa a nessuno un giovane quando gli fanno gli esempi del papà o del nonno che era bravo normalmente si stufa dice beh chi se ne frega io ho la mia vita non venitemi a rompere con gli esempi degli avi buoni cioè è una tradizione pesante che uno sente come un peso e dice ma mi devo fare la mia vita non quella che avete fatto a voi e per uno che compie 60 anni tanti quanti russi cristiana come me guardare una vita come quella di padre Scalfi puramente dal punto di vista storico potrebbe produrmi se la storia fosse solo cioè se fosse solo una storia cioè se fosse una donna vecchia senza eternità sarebbe una condanna perché una vita così grande così nobile non la posso più fare scusatevi se mi confesso è perché è così perché la grandezza di questa vita io non posso più rincorrerla perché hanno avuto un'altra allora che senso ha riprendere in mano il computer e scrivere quest'ultime 27.000 battute per completare una storia se la storia è questo è solo questo è una sarebbe una necrofilia sarebbe appunto una tradizione che certo rispetta i padri li considera molto novi tant'è che ci scrive un libro magari gli fa anche le statue magari lo metterà anche sugli altari ma è una vecchia senza eternità una vecchia donna triste senza eternità perché è l'eternità che mi interessa è l'eternità che rende continuamente giovane è l'eternità non la storia in quanto tale è la storia in quanto ha dentro questi guizi di eterno di infinito e allora mi sono detto ma qui dentro ci sono li trovo ho raccontato semplicemente dei fatti per bene l'ho detto prima storicamente ineccepibili posso documentare tutto quello che ho scritto ma è roba morta è roba di un morto buono imitabile potrebbe essere portato ad esempio ma non è questo secondo me questo per la testimonianza cristiana non è significativo e pensando a questi quindi a una tradizione che non è più una cenere per usare un'espressione del Papa non è più una cosa che abbiamo ricevuto che mettiamo in tasca e basta ma che rivivifica in noi ho provato a rileggere a riguardare a ripensare a ritrovare quei punti della vita di Padre Scalfi dove non c'è semplicemente una cosa bella umanamente parlando ma c'è il tocco dell'infinito c'è il tocco dell'eterno allora se io ripenso ad un giovane seminarista trentino che ha in mente tutt'altro il padre di tendenze socialiste ha in mente studia toniolo ha in mente di studiare la sociologia si impegna con le acli che per il fatto di sentire una messa cantata secondo la divina liturgia dice io do la mia vita alla Russia qui c'è l'eterno qui è successo qualche cosa qui è successo appunto una cosa misteriosissima che è la vocazione singola di ogni uomo dove appunto l'eterno si prende cura della vita di un giovane per dargli la strada oppure quando io eh leggo come come scrive Padre Scalfi a pagina 63 eh in uno dei suoi articoli su sulla situazione della Russia stiamo ancora parlando del periodo in cui lui come unica fonte lui e i suoi amici aveva esclusivamente la 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 stampa ufficiale sovietica e allora a un certo punto lui dice neppure l'ateismo comunista può sottrarsi al compito di servire in qualche modo all'edificazione del regno di Dio beh qui c'è qualcosa di straordinario qui non c'è un uomo che ha un nemico da combattere come se fosse un'ideologia qui c'è un uomo che ha una speranza incrollabile che persino il comunismo persino quel governo di cui lui documentava tutte le malefatte eccetera eccetera questo non può evitare di servire all'edificazione del regno di Dio e per mostrarlo dice che cosa insegna a lui e dice scusate un po' lunga la citazione ma secondo me è impressionante dice che le malefatte del partito comunista in unione sovietica devono convertire noi cattolici dice io per primo noi in Italia e diceva il comunismo sovietico è una dottrina che riguarda tutti gli aspetti della vita e troppi e troppi scusate troppi cristiani vivono la loro fede per natura totalizzante come un particolare separato dal resto della vita secondo il comunismo sovietico è una prassi oltre che una teoria e il cristianesimo nel precetto dell'amore è ben più che una teoria razionalistica alla quale viene troppo spesso ridotto sembra scritto per oggi terzo il comunismo sovietico predica il collettivismo e il cristianesimo che ha connaturato la dimensione comunitaria si è frequentemente concepito come un puro individualismo spiritualistico quarto il comunismo sovietico guarda il mondo intero come un suo scenario e il cristianesimo è cattolico cioè universale ma la sua passione missionaria è spesso languente quinto il comunismo sovietico admira insistentemente il futuro certo in termini utopistici e il cristianesimo attuale sembra troppo ancorato al retaggio del passato senza avere il coraggio di guardare innanzi ora un modo di procedere così si capisce che non è semplicemente appunto un parere un'ideologia una formulazione teorica di certi contenuti ma è l'irrompere nell'esperienza di un uomo che mi raggiunge a me attraverso queste parole adesso è l'irrompere di una dimensione altra di una dimensione che stravolge le piccolezze e i meccanismi della storia adesso non voglio però per esempio quando quando racconta del fatto che la scuola iconografica di Seriate per un certo giro ha portato alla cattedrale del Salvatore a Mosca un'icona e dice che non è firmata non c'è scritto da nessuna parte che è stata fatta a Seriate dalla scuola iconografica di Seriate e uno dice ma questo non importa perché è un gesto di carità è un gesto di gratuità è un gesto di ecumenismo che vedono gli angeli di Dio non importa che lo vedano gli uomini capite qui c'è dentro una dimensione che non è quella della storia che finisce e oppure quando quando dice nel suo testamento amate la Russia nonostante tutto quel nonostante tutto mette dentro nei fattori analizzabili dall'analisi storica dall'analisi sociologica dall'analisi del temperamento di tutti i componenti di Russia cristiana dall'analisi della situazione ecclesiale mette dentro un'alterità ed è questo l'interessante ecco nonostante tutto non è semplicemente vabbè sappiamo come sono i rossi è nonostante me e allora è appunto è l'irrompere di una di una speranza di una possibilità di una di una dimensione mi sembra la parola più giusta che è l'unica interessante che è l'unica per cui io mi posso girare indietro e guardare la vita di un uomo ed essere entusiasta di averlo fatto ed essere entusiasta di imparare perché non imparo un esempio da cui sarò sempre lontano che non potrò mai raggiungere imparo che c'è qualche cosa che non finisce che c'è qualche cosa che è eterno che c'è qualche cosa nella vita sua e anche mia diversi che però partecipano di questa alterità assoluta che è il divino presente e cioè il cristianesimo il divino presente nell'umano cioè il cristianesimo mi sembra non so mi rendo conto che forse troppo abbondantemente ma credo anche risposto alla domanda cioè la tradizione la tradizione è insignificante se non è una vita se non è una cosa attuale allora Cristo è lo stesso ieri oggi e sempre è stato detto anche prima ed è l'oggi la questione che mi interessa perché io vivo l'oggi e non posso vivere guardandomi indietro neanche per guardare dei grandi esempi o buttandomi in avanti con dei progetti che non saprò realizzare quello che l'unica cosa che mi dà sicurezza è che nonostante tutto c'è un presente che non è definito dai limiti che hanno tutte le cose cioè che è di io presente grazie grazie per questa attenzione a sottolineare da un lato i possibili rischi di una tradizione senza vita e dall'altro però nel ritrovare questa presenza di un eterno pur e lo si capisce da come ne hai parlato senza alcuna volontà banalmente celebrativa ma proprio con una attenzione quasi con acribia a voler riconoscere ciò che ha agito in Padre Romano perché è anche quello che ritrovo nella mia purtroppo breve esperienza di convivenza con lui infatti ci sono tante altre persone che potrebbero raccontare molto di più di lui persone qui presenti persone che ancora vivono in Russia cristiana la loro vocazione persone che hanno frequentato per tanti anni Padre Romano come un padre spirituale come colui che ha aiutato a scoprire la propria vocazione che ha insegnato a pregare che ha riaccostato la riconciliazione dopo magari tanti anni di assenza e nello stesso tempo però mi sembra di poter racchiudere in una parola quello che tu hai detto e cioè la dimensione profetica della vita di Padre Romano dimensione profetica non tanto perché fosse una sorta di oracolo che prevedeva il futuro non è questa la profezia la profezia è invece la capacità di leggere la presenza agente di Dio e questo è il primo tratto che mi ha colpito di Padre Romano di notare come nelle circostanze più diverse quando si pranzava a seriate o quando andavo a trovarlo nel suo studio e mi mi raccontava io gli raccontavo cosa stavamo facendo mi chiedeva delle altre attività che portavo avanti vedevo come davanti a una mia così frequente superficialità nel parlare lui che pure aveva un carattere a volte anche che veniva fuori in tutta la sua vivacità era tutt'altro che una persona da oleografia Padre Romano tuttavia ti comunicava sempre la certezza che lui stesse vivendo al cospetto dell'eterno incarnato cioè poteva esserci magari anche il momento più più sciolto più simpatico ma anche in quel momento o magari nella parola che ti diceva quando ti congedavi riconoscevi come in lui l'unità di vita era innanzitutto fatta di questa capacità di vivere la sua vita con la consapevolezza della storia in cui era immerso e non semplicemente la storia della cronaca anche se lui era molto attento e non soltanto sui fatti della Russia o dei paesi dell'ex Unione Sovietica era attento all'Italia alla politica italiana era attento agli avvenimenti ecclesiali eppure tutto questo che ad esempio nella mia esperienza tante volte mi porta a disperdermi in lui aveva il segno di questa riconduzione dicevo prima alla storia dell'incarnazione cioè alla certezza che il punto di unità della storia esiste già e che non siamo mai semplicemente in balia degli avvenimenti e questo mi sembra un tratto per quel poco che ho potuto cogliere che si è come affinato negli ultimi anni e che permette anche di guardare l'opera e la vita di padre romano la sua testimonianza senza perdersi magari in aspetti del suo giudizio che lungo il passare degli anni si sono anche evoluti hanno mutato alcuni aspetti sono dovuti stare davanti a situazioni che cambiavano ecco io penso che sotto questo aspetto oggi noi possiamo rileggere anche tanti testi che padre romano ha pubblicato sulla rivista russia cristiana o anche tante omelie o meditazioni che faceva non tanto andando a capire qual era la sua capacità di dire sempre la cosa giusta davanti alla circostanza del momento ma piuttosto nel riconoscere questa dimensione di una vita spalancata davanti a uno scenario a 360 gradi dove comunque riusciva a riconoscere e ad affermare la sua fede nella presenza del verbo incarnato e se guardo a quello che attraverso questa sua testimonianza di fede padre romano mi ha donato non posso non riconoscere ripeto pur nella brevità della frequentazione quei tratti che sempre più chiaramente mi appaiono come i tratti di una paternità è singolare mi sono un po' interrogato in questi mesi su cosa significhi la paternità spirituale e la paternità spirituale non è avere uno che ti dice cosa devi fare ma la paternità spirituale almeno a me sta capitando così per alcuni versi è come la paternità fisica naturale tu ti accorgi della grandezza di tuo padre quando ce lo hai meno vicino quando per anzianità oppure perché è venuto a mancare non ha più con te quella frequentazione che aveva quando tu eri un ragazzino o un giovane e quando magari presuntuosamente avevi più in mente te stesso che non quello che lui ti poteva dare e perché per la paternità spirituale non dovrebbe esistere questo fenomeno quello che padre romano mi ha donato come termini di paternità spirituale e lo dico con l'umiltà di sapere che tanti altri hanno avuto molto di più io lo vedo in quei doni che segnano e hanno cambiato e stanno cambiando il mio modo di essere cristiano e prete e mi sorprendo a volte riconoscendo come l'incontro con padre romano non è per me fatto di quantità indescrivibili di ricordi ma è fatto di alcuni tratti che io non riesco più a vivere come vivevo prima di incontrarlo penso innanzitutto al modo di celebrare la messa penso alle volte che ho avuto il vero dono anche quando era ormai ritirato nella sua stanza quando diceva la messa seduto alla scrivania ecco vedere il modo con cui celebrava la concentrazione l'unità di tutto se stesso che esprimeva mentre celebrava la sua insistenza nel leggere ad alta voce quella preghiera che il sacerdote dovrebbe recitare sottovoce prima di fare la comunione che dice tutta l'indegnità del sacerdote che si sta per accostare all'eucaristia lui la leggeva sempre ad alta voce e questa cosa mi ha colpito tantissimo come tanti preti di generazioni successive ci avevano insegnato che si quelle preghiere ci sono ma non è poi così obbligatorio recitarle o ancora il modo di guardare al mio sacerdozio padre romano da questo punto di vista aveva una limpidezza e totalità di dedizione alla sua vocazione che tante volte mi sono tornate in mente le volte non tantissime in cui ho avuto il dono di confessarmi da lui mi è rimasto proprio come questo aspetto il dire ma io questa cosa in padre romano la potrei vedere la proverebbe se la facessi questo modo anche di vivere il mio essere prete lui a questa cosa avrebbe dato l'attenzione che sto dando io gli si riconosceva una unità e una semplicità e una semplicità di vita o ancora ho sempre in mente mi è rimasto proprio impresso quello che padre romano mi raccontò della iniziale battuta d'arresto che lui pensava della sua vocazione di dedizione alla russia quando appunto a roma aveva iniziato a collaborare con una rivista dei gesuiti che a un certo punto ebbe un cambiamento di orientamento e per lui questo significò essere estromesso e lui mi diceva vedi quando mi capitò quello mi sembrava che mi crollasse tutto addosso adesso dico è stato grazie a quel allontanamento che poi sono arrivato a Milano e che poi è cominciata russia cristiana ecco io vi posso dire che in almeno tre occasioni nelle quali ero davanti alla possibilità di un cambiamento sicuramente non voluto magari anche con dentro una certa dose di ingiustizia che mi poteva capitare quelle parole mi sono sempre tornate in mente facendo fiorire al posto della paura del timore dell'incertezza quasi la curiosità di dire ma vediamo un po' il Signore che cosa vuol fare attraverso questa cosa che non mi sarei aspettato che non mi sarei mai augurato e l'ultima cosa che posso dire è l'aver visto gli ultimi anni di un padre romano ancora che desiderava molto tenere in mano tutto che si vedeva come non fosse facile per lui lasciare anche le cose e che invece a poco a poco ha trovato veramente una fiducia una pace una serenità in questo e penso che appunto la capacità di rimettere non nelle mani di qualcun altro ma nelle mani del Signore fidandosi di quello che lui sta facendo è anche il tratto della giovinezza spirituale di padre romano perché il giovane prete che arriva a Milano ha questo desiderio e continua a metterlo nelle mani di Dio l'anziano novantenne e ultranovantenne che riconsegna al Signore il futuro di quello per cui tutta la vita ha lavorato alla stessa giovinezza spirituale e dunque vi posso dire onestamente che io penso tutte le volte che celebro la messa e in particolare tutte le volte che celebro asseriate penso alla santità di padre romano c'è una preghiera che ripeto sempre quando celebro asseriate nella preghiera dei fedeli perché tuo Signore possa essere glorificato nella memoria di padre romano non c'è la volontà di anticipare niente sarà la Chiesa poi a dirlo però io penso che guardando a lui si vede una santità che per me è diventata talmente più credibile proprio perché è una santità intrecciata intessuta nelle pieghe quotidiane di una umanità assolutamente piena normale anche qualche volta appunto con dei tratti che non starebbero bene in una biografia oleografica di qualche santo ma che fanno vedere in lui così credibilmente l'azione di Cristo quella presenza di cui Pigi parlava da questo punto di vista ecco io posso solo ringraziare per questa biografia perché a me racconta una quantità di cose che di lui non ho visto che non ho saputo e proprio per questo sono convinto che possa essere un regalo utile anche per gli studenti per i giovani ce ne sono anche qui alcuni che magari iniziando da un interesse per la Russia da un interesse per una mostra da un interesse per la divina liturgia stanno riprendendo a frequentare Russia cristiana padre romano questa cosa la vedeva ed era una delle cose che più lo rallegravano c'è qui la possibilità di conoscerlo di diventare suoi amici sapendo bene che la distanza non è poi così grande ecco per questo motivo chiedo a Pige chiedo a Don Antonio una parola finale per chiudere questo nostro incontro e soprattutto poi lasciamo a voi la scoperta di questo libro e sarebbe anche molto bello magari per il nostro sito e soprattutto come aiuto anche per noi di Russia cristiana che una volta che l'avete letto ci mandiate un'impressione un pensiero un ricordo ecco qualcosa che ci possa aiutare a riconoscere l'utilità di questo libro ma anche la ricchezza che è depositata in molti cuori della paternità di padre Scalfi cominciò io devo dire che così come cappello conclusivo il libro mi è piaciuto molto perché racconta una storia molto significativa molto interessante e ha come è stato anche sottolineato questa capacità di diciamo inizialmente di incuriosire ma anche di stimolare un interesse per questa realtà della Russia che poi diventa in realtà attenzione e interesse per la figura di Cristo stesso diciamo in ultima analisi che è come un sottofondo di tutto il libro io di Russia devo dire onestamente conosco abbastanza poco se no per aver letto ma in realtà più nella mia giovinezza i grandi autori russi dell'Ottocento quindi ho letto anche Pastran anche altri ma insomma in particolare Dostoevsky Tostoi eccetera Dostoevsky secondo me ecco uno degli autori che rileggo tra i tanti che ho deciso di rileggio ogni tanto negli ultimi anni in estate meno uno o due libri dell'Ottocento lo rileggo ho letto due anni fa insomma Delitto e Castigo che ricordavo per altre cose quando l'ho lessi quando ero più giovane ma colpito in maniera strabiliante per le riflessioni di estrema attualità poi c'è ovviamente anche i fratelli Caramazzo con la storia dello Staras comunque di Russia non conosco molto altro però come dire l'interesse lo stimolo insomma qualche cosa mi leggerò in particolare mi interesserebbe leggere perché ci sono alcune testimonianze qua dentro le testimonianze di vita dei cristiani perché secondo me sono la cosa che è più interessante colpisce di più e ci fa capire come a volte il nostro cristianesimo è un po' troppo all'acqua di rosa diciamo così c'è un bellissimo racconto a pagina 117 di questo Anatoly che racconta appunto il suo arresto la sua detenzione e il suo successivo rilascio e vabbè è da leggere perché praticamente vive la liturgia pur essendo come dire imprigionato ed è come dire una storia straordinaria però ci sono tantissime storie che padre romano ha raccolto negli anni sono state pubblicate e così via testimonianze di cristiani perseguitati perché è una cosa interessante da notare secondo me e concludo che quest'anno sono i cento anni dalla rivoluzione russa che si possono ricordare per tanti motivi ma negli anni in cui ha avuto effetto l'Unione Sovietica sono stati gli anni della persecuzione o se vogliamo dire della nascita o del riaffermarsi di quello che Giovanni Paolo II ha chiamato l'ecumenismo del sangue testimonianza dei cristiani che dura tuttora in altre parti del mondo che è una testimonianza spesso fatta con il sangue che dovrebbe spingere ciascuno di noi che viviamo non costretti da un regime oppressivo a cercare di fare sì che questa nostra testimonianza cristiana sia almeno un po' più insomma un po' più solida rispetto a quello che a volte purtroppo è ma riprendo riprendo questa sollecitazione sulla Russia da un lato perché certamente è un fascino incredibile cioè sicuramente appunto la vita di padre Romano comunica ci partecipa questa questa essere affascinati da un mondo così alto eppure così nostro così così anticipatore del nostro così insomma con questo faccio straordinario e poi la sollecitazione sui martiri mi fa venire in mente appunto un'opera di padre Romano i testimoni dell'agnello che è un libro incredibile perché non è l'idea che verrebbe in mente a me ecco lo confesso ti faccio vedere un martire ti racconta una storia magari un po' truculenta in modo tale che tu abbia il modello no lui fa una 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 spesa di calendario giorno per giorno dove mette delle frasi dei padri della chiesa sul martirio e poi l'aveva trovata per internet la breve biografia di un santo di un martire di anche interconfessionale e poi l'elenco dei puri nomi di di morti cioè di nati al cielo in quel giorno lì perché il martirio non è tanto la bravura del martire il problema ma torniamo al discorso di qui sopra, è la partecipazione ad una grazia sovrabbondante che, con questo veramente concludo, io credo che sia questa la bellezza dell'esperienza che a me interessa guardare e domandare. E' una frase che Padre Scalfi ha detto qui a Rimi nel 2003, c'è una cosmetica della santità, esporsi alla luce dello spirito, maiuscolo, per diventare belli. Questa costante esposizione alla luce dello spirito trasfigura perfino le rughe, che non sono più segni di declino e di morte, ma screpolature della crisalide che si schiude alla nuova vita. Grazie mille. L'epilogo del libro, la copertina ultima, riporta una frase di Monsignor Pezzi, l'arcivescovo della Madre di Dio a Mosca. Dice, fin dai tempi di Abramo Dio manda sempre dei giusti che in ogni epoca sostengano la speranza degli uomini. Tra questi giusti, arditamente e umilmente insieme, io annovero anche Padre Scalfi. Non mi è sembrato ardito il paragone tra Abramo e Padre Scalfi. Sono persone, e io penso sia una grazia quando ciascuno di noi ne può incontrare una, che mostrano una vita talmente governata in modo unitario, talmente segnata da un compito che il Signore mette davanti a loro da diventare veramente guida per altri. Ecco, di Padre Romano si può dire proprio questo, che l'unitarietà della sua vita attorno all'amore per Cristo attraverso l'amore per la Russia sia stata sempre chiara. E questo gli ha permesso anche di essere profondamente padre, confessore, sacerdote, amico per tanti. Ringraziamo il Signore per l'esistenza di persone così. Grazie. Buona sera. Grazie. 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 Grazie.